Iniziamo la lettura della seconda parte del giornale. Qui insieme a me è presente l'ideatore del Festival del Medioevo Federico Fioravanti, storico giornalista e fondatore del Corriere dell'Umbria. Iniziamo innanzitutto con lo sport, con l'avvio scoppiettante del Fontanelle Branca. La squadra di Lisarelli supera 4-1 gli avversari al Santa Barbara. Il Fontanelle si è scherato con Lapazio, Carubini, Gaggiotti, Panetta, Gnagni, Francioni, Passeri, Gambini, Martini, Marchi e Cacciamani. A disposizione dell'allenatore Lisarelli, Fiorucci, Urbani, Vagnarelli e Pierotti. I marcatori sono stati al 24esimo e al 27esimo del primo tempo e al 18esimo del secondo tempo Martini, al 49esimo del primo tempo Marconi per il Madonna del Latte e al 44esimo del secondo tempo Passeri. A pagina 15 troviamo attorno a risplendere la tela di Virgilio Nucci. Lo storico dipinto del 1606 è esposto a San Benedetto. Giorni fa è stato presentato in conferenza stampa, presso la sala del refettorio del complesso monumentale di San Benedetto, il restauro della tela dipinta raffigurante l'episodio del perdono di Assisi, di Virgilio Nucci. Per l'occasione sono intervenuti il sindaco Filippo Mario Stirati, Tiziana Biganti della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, il professore Storelli e il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Carlo Colagliacovo. A metà pagina troviamo una novità, le magliette Il Lupo di Gubbio. L'idea è di Fabio Meschianti, la progettazione grafica di Michele Baccarini e la stampa di Giuliano Angeletti. Le t-shirt con il logo Lupo di Gubbio stanno andando a ruba in città, ad acquistarle soprattutto turisti italiani e stranieri, ma anche molti agubini. A pagina 16 troviamo l'attività della Scuola Comunale di Musica. Dal 1981 presenta Gubbio con piani di studio per gli strumenti classici e moderni. Abbiamo intervistato il professore Giordano Ghigi per fare il punto sulle attività recenti e quelle in programma. Per l'immediato futuro della Scuola Comunale di Musica. Presenta Gubbio dal 1981 con piani di studio per quasi tutti gli strumenti, sia classici che moderni. Per chi volesse approfondire l'intervista potrà leggerla prossimamente sul giornale. A pagina 17 vediamo presentato a Roma il Festival del Medioevo. Filippo Stirati, la città di Gubbio è a tutti gli effetti una piccola capitale medievale. Si è tenuta mercoledì 9 settembre a Roma, nella Sala degli Arazzi della sede RAE di Viale Mazzini, la conferenza stampa di presentazione del Festival del Medioevo, in programma a Gubbio dal 30 settembre al 4 ottobre. Per l'occasione sono intervenuti il sindaco Filippo Stirati, l'assessore alla cultura Augusto Ancillotti, l'ideatore del Festival Federico Fioravanti, il direttore di reistoria Giannotti e l'archeologa Ermini Pani. A questo punto le chiedo un commento riguardo a questo festival e qual è il programma a riguardo. Il festival è una grande operazione culturale di marketing, anche territoriale, che riguarda Gubbio. Ha detto bene il sindaco, Gubbio è una piccola grande capitale del Medioevo, quindi è lo scenario ideale per questo festival del Medioevo, che è un'operazione culturale unica nel suo genere, perché in Italia ci sono molte feste medievali, molte rievocazioni, ma mancava un festival, qualcosa che unisca il colto e il popolare, qualcosa di divulgativo ed importante, quindi con l'imprimatur scientifico del CISAM, che è il Centro Studi Alto Medievali che ha sede a Spoleto. E quindi per Gubbio è una grande occasione, credo, anche di mostrarsi a un pubblico nazionale e internazionale. Il festival, come avete detto, voi c'eravate, poi Cronaca Rubina era presente a Roma, quindi l'avete visto con i vostri occhi. È stata l'occasione anche di una presentazione, in qualche modo, della città di Gubbio. Quindi è un biglietto da visita anche della qualità della vita, della qualità storica e culturale della città di Gubbio. Ok, perfetto. Andiamo a pagina 19 e troviamo l'impegno dell'Associazione Culturale Arche. Paolo Ceccarelli, il motore che ci fa muovere è la passione per la musica. Si è conclusa, con il concerto di domenica scorsa della rassegna Chiostri in Musica, la stagione estiva degli eventi organizzati dall'Associazione Culturale Arche. Quest'ultima è un'associazione nata da poco più di quattro anni, il cui principale scopo associativo è quello di promuovere e diffondere la musica in ogni sua forma. Dalla data della sua fondazione ad oggi, l'Associazione Arche ha realizzato innumerevoli iniziative, atte a raggiungere questo scopo. Dietro le quinte c'è una filosofia che punta a creare collaborazioni con altre associazioni o enti e ad avvalersi dell'esperienza di riconosciute personalità eugubine del mondo della musica, convinti che l'unione faccia veramente la forza. Concludiamo la lettura del giornale con il successo per la Corrigubbio e Run for You. Nella gara podistica di 15 km trionfa Giorgio Tiberi, nella 5 km Martino Allegrucci. Abbiamo concluso adesso la lettura del giornale Cronaca Gobina numero 40, ringraziamo l'ideatore del Festival del Medievo Federico Fioravanti per la sua presenza e noi ci vediamo alla prossima uscita del 1 ottobre. Grazie. Grazie.